Sicuramente non siamo neppure in grado di poter dire al Presidente che cosa deve fare per migliorare la situazione, però noi medici ci siamo spesi anche su tavoli ministeriali. Io in prima persona ho lavorato al tavolo della riforma del pronto soccorso e dobi che oggi in Campania è stato praticamente accettato, siamo un po' in ritardo, sull'attuazione. Che cosa possiamo dire? Che ci aspettiamo che vengano spesi questi soldi che già esistevano per l'edilizia sanitaria che può migliorare e quelli del PNRR che in effetti arrivano i soldi, ma la riforma della medicina di base era già scritta nei piani di rientro del 2010, le case della salute, gli ospedali di comunità e quindi spostare la cronicità un po' fuori dall'ospedale per acuti per accogliere meglio, per ridurre l'attesa di quei pazienti che non possono fare almeno. Però questo comporta anche una riforma della medicina di base. Siamo sicuri oggi che questi medici non me ne vogliano perché anche io e altri specialistici siamo dovuti aggiornare che oggi i medici di medicina di base possano andare a lavorare in queste nuove strutture? No, ci vuole una riforma della medicina di base che non sia il corso della medicina generale associato al corso del 118. Quindi ci vuole una vera riforma, ci vuole un'autocritica e sicuramente oggi possiamo festeggiare con il presidente De Luca una ripartizione dei fondi alle regioni che non si basa solo sull'età perché noi è vero che siamo la regione più giovane ma siamo anche la regione più povera, quindi che si basi sullo stato sociale perché poi i poveri si ammalano di più perché non fanno prevenzione, non fanno altre cose. Quindi sinceramente la soluzione per quell'immagine non la possiamo dare noi, Asdo e Salerno o il Dea, Nocera, Pagani, Scafati. Però possiamo dire che noi nel nostro ospedale ci siamo battuti, lavoriamo tantissimo fino ad ammalarci. sapete che io durante il lavoro ho avuto una sindrome coronarica stress correlata, non si può lavorare 18 ore al giorno.